action buongiorno a tutti amici e benvenuti all'angolo intervista oggi abbiamo con noi un fratello no non dire fratello altrimenti ti danno del massone un amico Alberto Caccialanza ciao caro come stai ciao cari amici grazie mille per l'occasione per chi non conoscesse Alberto io l'ho già intervistato in passato una storia molto interessante vi consiglio magari di approfondire nel suo canale youtube dove raccontava che è una vita piena di alti e bassi fino a quando un giorno ha incontrato Dio il quale l'ha illuminato e l'ha portato a a divulgare la sua parola sta facendo un lavoro incredibile divulgazione devo dirlo pubblicamente io anzi lo dico è uno dei pochissimi canali che seguo perché sono molto allineato grazie caro amico tanto impegno è tanto impegno no lo so lo so purtroppo quando si fa questo lavoro di divulgazione si viene derisi però anche Noè veniva deriso fino a quando poi l'acqua non si è sollevata le persone purtroppo non sono salvate qui l'obiettivo nostro non è quello di condizionare quello che diremmo ma di dire guardate antiche scritture dicono questo la madonna dice questo poi fatevi un'idea ok è da tanto che non ti sento alberto intanto ti ringrazio per aver citato questa intervista perché lo so facendolo il divulgatore sei sempre in giro per l'italia quindi molto occupato personalmente come stai ma io molto bene sempre molto attaccato ma vabbè questo è normale no come succede a te quando la dici la verità in questo mondo insomma governato da un certo principe che fa tutto per il nostro male è normale ricevere delle aggressioni degli attacchi però molto bene cioè mi sento orgoglioso di me stesso e quindi se questo mi fa andare avanti sempre carico non so che cosa sia la depressione perché vedo molte persone insomma disadattate che ogni tanto cascano anche nella depressione l'azione ti toglie da queste situazioni negative quindi agite però una domanda ho diverse domande a farti una tra le tante che faccio di solito i miei ospiti a quelle persone come noi che lavorano per informare gli esseri umani cosa si prova quando tu sai non voglio dire esattamente perché a noi ci è stato dato il dono di vedere determinate cose ma guardate questi sono gli eventi sapere che accadrà questo e che nessuno fa niente per cambiare la vita cioè soffri li guardi con distacco oggi che sensazioni provi ma guarda ci ho fatto il callo ci ho fatto il callo perché dopo a forza di prendere delusioni ci fai l'abitudine e non ci fai più caso cioè vado avanti tra virgolette per inerzia perché è inutile star lì a guardare il risultato che otteniamo se stiamo lì a guardare il risultato dobbiamo fermarci subito perché i risultati sono in confronto agli sforzi esagerati che ho fatto i risultati sono praticamente nulli quindi si va avanti sono consapevole la consapevolezza ti porta a fare i giusti calcoli quindi con certe persone non perdo un solo secondo non perdo un solo minuto vado avanti con una certa cerchia ristretta di chi vuol capire di chi riesce a pensare e insomma non mi ferma no fa ridere questa cosa che Dio mi dà la forza di tutto no ma fa ridere la cosa che hai detto adesso perché anch'io faccio questa cosa io do il mio tempo solo a chi è pronto ad ascoltare altrimenti vuoi andare a quella strada vai tranquillo non sto lì a condizionare ma sarebbe tempo perso certo ci sarebbero tante cose da dire su quello che ho passato ma sarebbe tempo assolutamente perso ascolta parliamo di apocalisse i tempi sono maturi allora sì sono assolutamente maturi e noi non dobbiamo sentirci superiori a quello che c'è scritto nei testi sacri e in apocalisse il quarto cavaliere in apocalisse sei il cavaliere della morte e parla proprio della fame della grande carestia che deve arrivare e adesso i segnali sono arrivati ti spiego tutto bene praticamente con queste proteste degli agricoltori i segnali i segnali hanno parlato chiaro cioè abbiamo visto il trattore con la bara e sulla bandiera dell'italia abbiamo visto poi il trattore che portava il cartello finisce l'agricoltura inizia la vostra fame ed è quello che sta succedendo perché tutto è partito col problema della co2 che è un gas serra che trattiene il calore il calore del sole lo trattiene qui e non lo lascia andare nello spazio quindi dobbiamo emettere meno co2 per contenere il suo riscaldamento però c'è una questione da considerare cioè il Ettore Majorana aveva inventato la macchina la famosa macchina di dio che aveva trasformato 120 cubi e c'è il video 120 cubi di gomma piuma in 120 cubi d'oro c'è il video e questa macchina poteva trasformare la co2 in ossigeno e lo aveva fatto l'avevano posizionata in Spagna questa macchina e stavano trasformando la co2 in ossigeno sono intervenuti naturalmente i servizi segreti hanno sequestrato questa macchina l'hanno fatta scomparire e il potere ha sempre impedito che noi beneficiassimo di questa macchina qui che poteva trasformare la co2 in ossigeno e quindi è tutto completamente organizzato adesso come sai molto meglio di me hanno parlato di abbattere il bestiame hanno parlato perché vogliono abbattere il bestiame perché produce troppe emissioni vogliono aumentare il prezzo della carne dei trasporti ad alto consumo vogliono limitare il voltaggio nelle case hanno parlato anche di mettere delle multe a chi consuma troppo anche di 3000 euro poi il carbon credit consumi troppa carne troppa benzina ti impediscono di viaggiare e ti impediscono anche ti bloccano il conto corrente arrivano anche a questo io ti ho anche portato dei messaggi se Mariani perché come sai io faccio questo certo certo a me fa piacere anche ascoltarli sono proprio inerente alla domanda quello che volevo dire il carbon credit sono le carte di credito di nuova generazione praticamente quando voi fate la spesa vi danno un punteggio quando superi questo punteggio dicono attenzione tu sei un cattivo cittadino non puoi viaggiare oltre di dovrai ricomprare il credito questa è un po' la verità è tristissimo sì se hai dei messaggi sono felice di ascoltarli naturalmente una piccola parentesi io i messaggi non è che li leggo così a caso li pesco su internet ho visto cosa è successo anche in questi luoghi di apparizione uno studio profondo vabbè adesso comunque li leggo allora Carbonia apparizione in Sardegna 2020 vi sommergeranno di limitazioni che proverranno dal costituito ordine mondiale il caos sociale si diffonderà come una pestilenza di paese in paese le imposizioni sull'umanità porteranno a degli scontri a scontrarsi Luz de Maria qui andiamo dall'altra parte del mondo Argentina 2023 attente ai cambiamenti progettati dai potenti affinché tutta l'umanità cammini all'unisono precipitandosi nell'abisso arriveranno cambiamenti definitivi per tutta l'umanità questo è il periodo in cui i miei figli devono prepararsi vi verrà nuovamente chiesto di lavorare dalle vostre case e le attività necessarie alla sopravvivenza dei popoli quindi agricoltura crolleranno quindi il regime proprio voglio distruggere l'agricoltura è tutto un piano organizzato ma vuole andare oltre vuole portarci la fame adesso avevano proposto di dare 1500 euro ti dico quello che ho sentito agli agricoltori per ogni ettaro per fare in modo che non utilizzassero il terreno hanno parlato di dare il reddito agli agricoltori hanno parlato anche di comprare il terreno agli agricoltori per posizionare sui pannelli solari ma se posizionare sui pannelli solari il terreno sottostante diventa sterile e poi in queste famose righe che vediamo sempre più in cielo avevano trovato anche una sostanza che si deposita sul terreno e può provocare delle acidosi al terreno e il terreno non produce più e poi anche anche avevano analizzato un fiocco di neve e c'erano dentro prima che cascasse a terra però e c'erano dentro dei cilindretti di plastica perfettamente squadrati che si depositano sul terreno cambiano la struttura del terreno il terreno diventa proprio sterile quindi è chiaro vogliono portarci ma che idea ti sei fatto cioè il piano loro cioè se loro vogliono eliminare il pomodori vogliono eliminare il vegetale vogliono eliminare la carne cioè cosa vogliono farci mangiare blatte nel nuovo mondo sì 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 guarda ti ho sì beh ovviamente questo ovviamente la farina di grill lì adesso abbiamo visto il capannone i capannoni a Parma a Macerata dove ci sono queste farine c'è la farina di grill lo abbiamo visto anche Gates a Davos che ha parlato del cibo nuovo pulito insomma che costa di meno poi abbiamo anche visto in America che dalla cellula di animale vogliono produrre la carne artificiale di pollo e l'ho detto anche in un mio video in Inghilterra hanno il giudice di Masterchef ha parlato della carne umana ingegnerizzata ingegnerizzata con proteine che arrivano da cellule umane e quindi tutte queste mostruosità qui no ma se guardi tu anche le notifiche per esempio il cartone dei Simpsons sai no che hanno lanciato tante notifiche hanno fatto vedere in una di queste puntate che c'era un giornalista che mangiava l'hamburger e insomma andava giù di testa diventava pazzo diventava aggressivo saltava addosso alle persone le mordeva come se fossi come se fossi uno zombie i messaggi guarda confermano tutti questi dati confermano tutto per esempio apparizioni Roma Valeria Copponi 2023 quest'anno no l'anno scorso la vostra terra è consumata in tutta la sua pienezza e purtroppo non vi darà più ciò che desiderate Carbonia 2010 venite ad operare per il giardino del cielo la terra ormai non può più darvi nulla tutto finisce qui sì tutto finisce concludo Luz de Maria 2022 la carestia si estenderà su tutta la terra su disposizione dei potenti delle potenze che vi condurranno verso l'abisso e dopo aver patteggiato con il male riusciranno a portare l'umanità a soffrire come mai era successo quindi dietro a tutto c'è un grande progetto molto sottile ben calcolato e le persone ma anche io parlo dei risvegliati non si rendono conto dell'inferno che sta arrivando pensano che questi messaggi magari siano da interpretare delle metafore sta arrivando un inferno c'è peggior sordo che non vuole ascoltare ma come mai una domanda tecnica questi messaggi mariani avvengono sempre in Sardegna in Carbonia in queste poche località al mondo da cosa è dovuto questo a dire la verità sono in tutto il mondo ah ok però io leggo sempre ascoltando le tue live quando le racconti ti sembra Carbonia dici queste località mia quello mi ha colpito questa cosa qua c'è un motivo particolare storico il motivo si collega al mio lavoro che sto facendo che deve essere ordinato praticamente io non pesco i messaggi a destra a sinistra quello che arriva no io leggo tutta la storia studio tutti i messaggi dal primo all'ultimo quindi vado avanti con queste 10-15 apparizioni che sto trattando perché le conosco molto bene so cosa è successo e tutto e quindi sentirai sempre queste ma per questo motivo perché adesso non aggiungo altre apparizioni perché mi ci vorrebbe troppo tempo cioè il lavoro deve essere ordinato e preciso sì sì ma comunque appare in tutto il mondo ecco a me ha colpito una tua live molto interessante dove parlavi che gli esseri umani gli eletti verranno salvati cioè arriveranno queste astronavi io come dico sempre il nostro Dio è molto tecnologico mettiamola così ma come dobbiamo perché le persone vedono Dio come un qualcosa di proprio religioso ma poi il nostro Dio creatore alla fine che cos'è è fisico che possiede una tecnologia molto più avanzata rispetto alla nostra cioè io l'ho associato a questo lo so che a molti non piacerà questo passaggio però io mi ritrovo molto in questo messaggio arriveranno le astronavi prima venivano chiamate le nuvole arriveranno le nuvole che si appoggeranno al suolo le chiamavano nuvole perché non potevano chiamare i dischi volanti però questo passaggio mi aveva colpito di questa live che hai fatto sì ne ho fatta più di una su questo argomento ma bisogna essere sempre molto sereni e valutare le cose così come stanno senza farsi abbindolare senza cascare magari in gruppi di pensiero dove hanno una mentalità molto molto chiusa molto ingabbiata noi vediamo male la tecnologia perché la tecnologia su questo mondo sta degenerando faccio senza darti spiegazioni ovviamente sta degenerando a 360 gradi e quindi la tecnologia è vista male ma Dio ha una tecnologia sana Dio è scienza Dio è onnipotente onnisciente sa tutto quindi Dio è la massima tra virgolette così intelligenza e tecnologia anche se è sana non fa niente di male se è sana che ben venga quindi queste navi celesti perché stupirsi se degli esseri superiori viaggiano nell'universo con queste navi celesti queste navi celesti comunque sono luce luce alte vibrazioni possiamo dire anche plasma solare che entrano nella nostra dimensione cambiando anche le vibrazioni abbassando le loro frequenze adattandosi alle frequenze basse del nostro mondo e possono infatti lo vedi nel Vangelo nei testi sacri manifestarsi sia come dischi di luce come stelle ma anche come dischi come ha detto Ezechiele che hanno delle ruote con dentro altre ruote cioè la tipica forma del disco volante non c'è da stupire io quando ho saputo questa grande realtà ho fatto i salti di gioia mi sono scandalizzato perché che caratteristiche deve avere un eletto per essere prelevato da Dio perché sai ci sarà il sequestro si parla del famoso quando il pianeta Terra vivrà dei momenti oscuri Dio verrà a salvare i propri figli secondo te bisogna avere delle caratteristiche specifiche per essere salvato da Dio allora bella la domanda legato sempre alle visioni mariane cioè queste cose qua perché sicuramente ci sono delle caratteristiche per passare dall'altra parte ma certamente allora io ti dico molto sinceramente il messaggio mariano ci chiede aiutiamo un Arianna Martini fai opere di carità fai aiuta le persone come me e te che ci mettono la faccia per dire la verità no diffondiamo la verità se ci sono due persone che litigano facciamo in modo che ritornino all'amicizia in amicizia e chi si salva guardiamo la parabola dei doni Matteo 25 la parabola dei doni ci dice che le persone hanno dei talenti talento si utilizza con l'azione quindi se tu preghi e basta non sei un eletto devi agire ma preghiera io la faccio ci vuole la facciamo ci connettiamo a Dio ma devi agire quindi è molto semplice basta un po' di impegno come dico io non ascoltare ciò che dicono serve a ciò che fanno cioè azioni aiutare il prossimo non è a dire vado in chiesa io prego però ma non farò niente di buono nei confronti della società quindi aiutare che ne so una persona che ha bisogno di un panino un cagnolino che ha bisogno di un po' di cibo un gatto che ha bisogno di un po' di acqua cioè le azioni aiutare il prossimo comunque essere animati ma poi vorrei aggiungere anche una cosa ho una mia costatazione poi magari ognuno la pensa come vuole ho visto questo nel mondo mariano ci sono troppe persone che la puzza sotto il naso possiamo dire non è una critica ma ti devo far capire ho visto che le persone che hanno avuto un passato brutto che si sono macchiate che si sono sporcate che hanno fatto tanti errori denunce magari hanno fatto uso di sostanze che non bisogna usare e si convertono li va via quella puzzettina sotto il naso e hanno una marcia in più non è una regola generica però ho visto che una regola assoluta però ho visto che va un po' così funziona un po' così e quindi Dio oltre alle azioni guarda anche il nostro cuore e non è corrompibile sono da con Dio ti feci anche un esempio tempo fa lo feci sulle donne che magari è meglio sposarti un'ex prostituta che ha vissuto quella vita e non vuole più fare quella vita allora vuole il vero amore che non è una ragazza ma è un giovane che vuole vivere esperienze che poi vuole fare anche quell'esperienza cioè nel senso che se uno ha bevuto molto e poi ha scoperto che spazzatura l'alco non vuole più bere se ha usato droghe sa che spazzatura non vuole più usarle e quindi persone che hanno non le puoi più corrompere ci sono già passate infatti anch'io mi sono posto questa domanda Dio ti ha scelto per questo io conosco hai raccontato pubblicamente l'esperienza che hai avuto in passato io conosco le mie gli dico è proprio vero perché come dire io prendo questi perché non li puoi corrompere hanno già fatto un sacco di cazzate la loro vita quindi che no magari quello che deve ancora vivere è tutto con questo non voglio dire che uno che ha fatto errori gli farà ci mancherebbe altro però anche io l'ho vista un po' in quella chiave là non sono corrompibili sono già hai totalmente ragione caro amico perché per esempio io ho fatto degli incontri mi si è presentato un ragazzo che ha fatto 14 anni di galera un ragazzo quindi vuol dire che ha cominciato presto e ho sentito tanta luce ho visto persone che si sono fatte 5 anni di galera e guardano i miei video e vedo tanta luce non sono persone che se secondo loro c'è una virgola che non va bene in quello che dico ti saltano addosso pubblicamente facendo i grandi dotti e teologi sono persone che dicono ah guarda su questo non sono d'accordo perché hanno una certa umilità io vedo una certa differenza poi non è una regola assoluta ripeto però in queste persone vedo tanta luce sentono che Dio gli ha dato una possibilità per edificare sì sì un po' come il figlio prodigo che rientra a casa ascolta voglio farti un po' una domanda da un milione di dollari che piace a tutti questa domanda i famosi tre giorni di buio c'è chi ovviamente solo Dio come tu saprai conosce le date noi esseri umani non abbiamo date anzi io diffido di chi spara date così alcuni la associano all'8 di aprile 2024 sai ci sarà questa grande eclissi mondiale eclissi vuol dire anche cambiamento ma secondo te sono i famosi tre giorni di buio o non c'entra niente con questa data? non c'entra assolutamente niente allora posso sbagliarmi per carità ci sono spieghiamo cosa sono i tre giorni di buio per chi magari sì i tre giorni di buio sono associati a dei passi di apocalisse 6 il sesto sigillo voi guardate che si parla dei tre giorni di buio cioè del buio non specifica i tre giorni ok e sono citati anche in Matteo 24 in altri passi comunque si parla di questo buio allora Gesù è seso agli inferi per tre giorni giusto? sì quindi succede tutto come uno specchio questo è quello che ho sempre detto per esempio la gli apostoli erano presenti con Gesù Cristo San Giovanni Giovanni l'Evangelista San Matteo e tutto io come ho detto leggendo i messaggi mariani ho detto che gli apostoli sono presenti ancora oggi poi i tre giorni di buio la Madonna è stata innalzata in cielo anche Gesù era stato innalzato in cielo adesso ci sarà il rapimento degli eletti quindi è tutto come uno specchio e i tre giorni di buio a differenza di tutte le altre persone che seguono i messaggi mariani ho detto che saranno anticipati proprio da un allineamento di pianeti ok praticamente sono l'inizio del parto io all'inizio i primi tempi quando leggevo i messaggi pensavo fossero la fase finalissima che anticipa la luce invece sono diciamo l'inizio di un parto e consideriamo anche che sono state come arriveranno ci sono state date varie versioni potrebbe essere un meteorite che colpisce il pianeta che il meteorite che colpisce un pianeta è come lo spermatozoo che feconda l'ovulo no e ho visto anche un'interpretazione di Giuliana Conforto cioè i poli magnetici che si interve che si invertono il polo nord magnetico che si inverte e nel punto d'incontro l'elettricità non ci sarà più quindi ci saranno questi giorni di buio dove l'elettricità non ci sarà e nelle profezie si parla di di rimanere in casa perché saranno liberate queste entità demoniache che sono hanno il dominio sulle leggi della fisica quindi anche sulle vibrazioni imiteranno anche le voci dei parenti perché la voce è vibrazione imiteranno le voci dei parenti per farti uscire di casa bisogna chiudersi in casa chiudere le tende non guardare all'esterno mentre accadono questi fenomeni giusto si esattamente ma è una questione di luce si accendere delle candele sacre si saranno protette queste case da una capanna di luce la luce di dio va di sopra delle leggi della fisica e tutto il resto e quindi all'inizio di un parto è l'inizio di un parto e poi vabbè si possono fare anche altri collegamenti però dimmi tu se volevi no no interessante interessante perché come abbiamo detto noi non abbiamo la sfera di cristallo abbiamo solo dio conosce le date abbiamo fatto giuste letture e questo dobbiamo aspettarci questo ma non sappiamo quando accadrà comunque sono mie interpretazioni e quindi prendete sempre con le pinze un cambiamento di vibrazioni comincerà un cambiamento di vibrazioni perché l'entità demoniache è verissimo che si possono manifestare fisicamente ma però l'entità demoniache hanno altre vibrazioni noi con i nostri occhi percepiamo soltanto una gamma ristretta di vibrazioni e quindi con intergiori di buio a mio parere comincerà un cambiamento di vibrazioni di questo pianeta e queste entità si renderanno visibili anche per questo motivo poi come ti ho detto si possono dare anche altre spiegazioni torniamo al discorso della carestia infatti prima ne parlavamo dei contadini e cose varie noi abbiamo collegiato piano B proprio per creare una guida anche le scorte di cibo certo che ho sempre detto di fare sì bravo infatti per quello siamo molto allineati molte persone come tu saprai fanno tutto all'ultimo istante cioè succede qualcosa vado al supermercato ma ricordiamolo che vi è una fascia di 24 ore cioè se domani scoppia il caos non pensare che prendi la macchina per fare la spesa cioè vogliamo ricordare quanto è importante fare almeno le scorte di cibo come farla giusto per proteggersi almeno una famiglia per i propri figli ma allora fare la scorta di cibo penso che ognuno si organizza guarda le date di scadenza prende il cibo in scatola carne in scatola e tutto uno se la cava non è che devo dirlo io giusto come fare uno se la cava il fatto è questo dobbiamo entrare nella mentalità delle persone cioè non riescono a digerire questa informazione che il potere i potenti di questo mondo fanno veramente una cosa del genere lo fanno davvero ed è già successo per esempio ti posso fare degli esempi in Irlanda nel 1840 avevano provocato una carestia con un milione di morti in India avevano provocato una carestia nel 1940 con 3-4 milioni di morti Stalin ha provocato la carestia dell'olodomor e nel regime di Stalin cos'era successo le persone che non si adattavano al regime venivano portate nelle lande che sono degli isolotti che non producono sono sterili e li rincodevano in questi isolotti non li portavano da mangiare e le persone morivano di fame ci sono stati anche degli episodi di cannibalismo infatti c'è una di queste lande che è stata chiamata era l'isola di Nazino chiamata l'isola dei cannibali è tutto scritto è quello che dico anche Mao Zedong durante il suo regime ha provocato la carestia con io ho letto 20 milioni di morti magari ne sono morti 10 milioni questo non lo so però l'hanno fatto e adesso lo vogliono fare a livello modiale questo deve essere chiaro ed è tutto da vedere sempre sotto un aspetto anticristico ovviamente se vuoi ti leggo anche ce li ha un paio di messaggi su questo argomento per esempio Carbonia 2013 di fronte alla misera e alla fame che verranno che farete uomini senza Dio che farete figli miei arriva vi rivolgerete a Satana perché vi porti il suo aiuto e vi liberi dall'angoscia e dal dolore che verranno Luz de Maria 2018 l'economia mondiale sarà quella dell'anticristo la salute sarà soggetta all'adesione all'anticristo tutti saranno liberi se si consegneranno all'anticristo vi verranno dati gli alimenti se vi consegnerete all'anticristo questa è la libertà alla quale questa generazione si consegnerà l'asservimento all'anticristo quindi perché deve succedere col messaggio Mariano andiamo un po' più nello specifico deve succedere perché poi si manifesta l'anticristo il risolutore di tutti i problemi e darà da mangiare agli affamati quindi fra un po' l'elite che opera per l'anticristo avrà il totale controllo degli alimenti ma infatti sei visto poco tempo fa in una commissione europea hanno parlato hanno proposto una legge che determina quali alimenti quali sementi possiamo commerciare quali sementi possiamo utilizzare e quindi cari amici questo è il problema le persone non non focalizzano non ce la fanno Alberto non so se tu sapevi questa cosa parlai con una persona esperta di semenze non si è fatto di teori stare perché è molto famoso in Italia quindi saprebbero chi è mi raccontava che la Monsanto ha brevettato le semenze dove se tu pianti i pomodori della Monsanto fa un ciclo di uno o due anni e poi devi ricomprare le semenze cioè hanno modificato le semenze per far sì prima Dio ci ha dato i frutti per far sì che servono per tutta la vita no tu uno o due anni devi ricomprare le semenze quindi un ciclo terminato finito cioè assurdo devi dipendere completamente da loro ma poi gradino dopo gradino ci portano proprio alla fame ma ricordati quello che ti ho detto prima il cibo dell'anticristo il cartone dei Simpson mangia impazzisse il cibo dell'anticristo ci farà diventare aggressivi violenti ne parliamo dopo degli zombie infatti Israele e Palestina cosa è l'inizio allora sì assolutamente assolutamente sì perché ti spiego la Madonna aveva indicato io che gli studi i messaggi mariani tre aree calde per la terza guerra mondiale la Russia come aveva indicato a Fatima già nel 1917 e c'è in mezzo è in guerra poi con questo attentato terroristico a mio parere completamente organizzato poi l'altro era Israele l'altra area era Israele e ci siamo l'altra area era Roma ma quando sarà toccata Roma vuol dire che la guerra sarà a dei livelli spaventosi l'Europa sarà fatta a pezzettini e anche gli Stati Uniti saranno fatti a pezzi e sicuramente Roma verrà colpita perché è scritto in Apocalisse 17 ma anche perché lo annunciano tutte le profezie mariane e gli stessi estremisti islamici lo dicono ok e adesso faccio questo collegamento nell'ambito di questa guerra sono intervenuti gli americani hanno cominciato a bombardare lo Yemen e anche la Siria e l'Iraq la Siria e l'Iraq sono bagnate dal fiume Ufrate in Apocalisse 16 è scritto che l'ultima grande guerra inizierà dal fiume Ufrate quindi questa guerra preannuncia dei dolori veramente pesanti per questa umanità e ti ho portato i messaggi anche per la guerra che ti leggo Carbonia 2016 stanno per attaccare Israele 2016 presto tutto si incendierà nella guerra fratricida il dolore sarà infinito esatto conferma quello che ho detto conferma tutti i segni ma dobbiamo sempre vedere tutto ricordatevi amici tutto nell'ottica dell'anticristo cioè Israele ha vissuto uno dei regimi più forti più pesanti è stato penso il primo dimmi te se sbaglio penso il primo ad introdurre il cosettino verde per entrare nei negozi poi i militari entravano nei quartieri ultra ortodossi e davano delle legnate agli ultra ortodossi perché non accettavano regime poi nella città di Ranana io mi ricordo perché ho scritto tutto negli appunti nella città di Ranana il sindaco voleva imporre ai lavoratori che non avevano accettato regime di indossare una tuta distintiva cioè quindi umiliare quelle persone lì e quindi Israele è sotto al 100% all'elite e anche Netanyahu è un burattino dell'elite e l'ho spiegato negli incontri perché nelle elezioni tra Netanyahu e Shimon Peres dove era assolutamente favorito Shimon Peres che era un simbolo di pace e non va bene questo all'elite proprio nel periodo di elezioni sono verificati una serie di attentati da parte dei miliziani di Hamas proprio in quel periodo lì e quindi Netanyahu considerato il grandissimo nemico di Hamas ha vinto le elezioni col 50,5% dei voti in un modo molto strano e consideriamo anche che Netanyahu era accompagnato da un consigliere politico voi guardate Arthur Flinkenstein che aveva appoggiato aveva collaborato questo Arthur Flinkenstein anche con Bush Senior e con Reagan e questi due personaggi sappiamo che hanno sempre appoggiato il grande governo moderno in arrivo e addirittura Reagan aveva parlato anche del del Blue Bean Project l'invasione aliena unificherà tutta l'umanità proprio c'è il suo discorso quindi con tutti questi collegamenti comprendiamo che Netanyahu è un burattino dell'elite quindi questa guerra ci porta si diffonderà in tutto il mondo ma porterà alla manifestazione dell'antichristo e adesso ti do ti le ho portate apposta questi messaggi Luz de Maria ancora 2023 siete entrati nel momento in cui vivrete la vera crudeltà dell'uomo tutti insorgeranno contro altri fratelli sarà una guerra feroce e i miei figli soffriranno ovunque ovunque mondiale verranno utilizzati i progressi tecnologici malimpiegati negli armamenti bellici e la morte pretenderà il suo bottino l'anticristo si presenterà nel mezzo della guerra e fornirà cibo medicine e tutto quello di cui l'umanità avrà bisogno compierà miracoli quindi la guerra si diffonderà in tutto il mondo e poi si manifesterà naturalmente funzionale all'anticristo perché poi dopo lui si manifesta come il risolutore il portatore di pace e ci sono tanti altri elementi che dimostrano che è organizzata per esempio Hamas è finanziato dal Qatar e il Qatar è connesso agli Stati Uniti e poi sono entrati dei miliziani di Hamas in Israele in ottobre dell'anno scorso con il parapendio a motore con i deltaplani con i mitragliatori quindi con dei mezzi molto rudimentali e hanno portato via questi giovani ma bisogna considerare che Israele è uno dei paesi più sorvegliati militarizzati e i servizi segreti israeliani sono molto molto attivi quindi com'è possibile che questi qua siano entrati così perché è tutto organizzato ma infatti sui politici la mia idea me la sono fatta e non esiste il politico bravo sono tutti fanno parte della stessa organizzazione sì ma sono sotto la pressione sotto i tentacoli dell'anticristo certo e poi ricordiamoci anche se vuoi c'è un altro messaggio se vuoi cambiare domanda dimmi tu certo dimmi ricordiamoci anche anticristo quindi ti leggo questo Luz de Maria 2010 vengo crocifisso nella menzogna che i governanti potenti nascondono mentre stanno preparando un'imboscata contro la mia chiesa alle porte c'è colui che viene a scagliarsi sul mio popolo per prendere il potere con la menzogna e l'inganno l'anticristo quindi guerra anticristo anticristiani quindi questa guerra adesso colpirà i cristiani infatti se vuoi ti dico ci sono degli elementi che fanno capire questo per esempio il nostro melone hai capito ha inviato una nave per appoggiare nel Mar Rosso per appoggiare le azioni degli americani contro lo Yemen e il ministro Tajani ha detto noi colpiremo soltanto se veniamo attaccati beh ma è ovvio che se mandi lì le navi prima o poi ci attaccano e lì nello Yemen c'è il partito dei miliziani di Allah che stanno appoggiando la Palestina e cosa hanno detto l'Italia visto che ha appoggiato gli americani adesso diventerà un nostro obiettivo fra un po' colpiremo gli italiani e poi c'è da considerare anche che il nostro melone ha posizionato la bandiera di Israele quando è scoppiata la guerra quindi il mondo islamico si sta inferocendo infatti nelle manifestazioni pro-Palestina che hanno fatto hanno esposto un cartellone che ho scritto in arabo prima il popolo del sabato che sarebbero gli evrei poi dopo il popolo della domenica che sarebbero i cristiani e ce l'abbiamo già in casa questa gente qua non deve necessariamente arrivare ce l'abbiamo in casa cioè c'è sì ma è tutto come se un progetto tutto il piano Calergi sostituzione demografica come no ma pensa che le scuole stanno chiudendo per il Ramadan c'è roba che io veramente non posso le mie orecchie non posso ascoltare questa roba qua e hanno ammonito ti aggiungo questa una maestra perché aveva fatto pregare il rosario quindi c'è si capisce che chi sta in alto in alto c'è ci porta in una certa direzione ma secondo te il ruolo di quello che io definisco criminale alla pari di Zelensky alla pari di Ursula von der Leyen il ruolo di Putin qual è? ma io sono la mosca bianca no lo so penso come la diversa però sono curioso allora tutti ne parlano come il colui che risolverà i problemi del regime ma io ho sempre detto che non è assolutamente così ti posso dare tante motivazioni però viene lunghina ma ti dico qualcosina innanzitutto viene dal KGB certo appunto io ho conosciuto un giornalista russo russo no non russo che ha vissuto in Russia e adesso è in Israele e mi ha parlato di Putin e quello che mi ha detto mi concorda con i messaggi variani e non è vero che sto salvatore adesso le persone sono frustrate perché vedono che l'America l'Europa ha imposto questo imposto quell'altro allora il nemico dell'America e l'Europa lo vedono come salvatore ma non c'entra niente chi comanda il mondo innanzitutto sono entità demoniache e questa cerchia ristretta di famiglie che sono al di sopra di Putin questo è scritto e bisogna saperlo e poi se fosse come dicono le persone che Putin sta contrastando il progetto anticristico l'anticristo stesso non potrebbe mai manifestarsi perché la Russia alleata con la Cina con i paesi africani e tutto impedirebbero all'anticristo di portare a termine il suo piano ma Dio Dio vuole tra virgolette brutto dire così cercate di capirmi vuole che si manifesti l'anticristo perché deve essere uno strumento di selezione per l'umanità cioè gli permette di manifestarsi perché abbiamo visto che siamo una cancrena totale irrecuperabile quindi Dio vuole questo tra virgolette cercate di capire che magari passa male il discorso quindi non è assolutamente vero e si compirà tutto come è descritto nei testi sacri non è assolutamente vero che Putin è il nostro osservatore infatti sono emersi tantissimi elementi che ci fanno capire questo per esempio nel 99 ti passo solo un esempio avevano posizionato delle cariche esplosive nelle palazzine in Russia nel settembre 99 dove erano morte centinaia di persone un giorno avevano un signore era fuori dalla palazzina col suo cane e aveva visto delle persone che stavano posizionando o qualcosa in uno scantinato allora ha chiamato la polizia la polizia è arrivata lì ha visto che erano delle cariche esplosive programmate per esplodere allora questo signore ha indicato i poliziotti la targa della macchina e i poliziotti hanno indagato questi qui che hanno posizionato le cariche esplosive facevano parte del KGB servizi segreti e Putin viene dai servizi segreti ma cosa ha fatto Putin ha fatto finta di niente ha dato la colpa ai ceceni e ha fatto bombardare i ceceni invece c'erano stati i servizi segreti no ma come questo attentato che è arrivato adesso l'ho detto è una falsa governativa russa io non ho dubbi su questo questi sono criminali ma usano anche delle tecniche dove ne sacrificano cento per poi farne fuori altri milioni purtroppo ma una cosa che mi ha colpito la storia degli zombie anche Amazon tu non so se hai saputo Amazon aveva cambiato le leggi in caso di alcune assicurazioni di attacco di zombie secondo te cosa si nasconde dietro questo concetto c'è gli zombie i morti viventi che attaccheranno gli esseri umani hai qualche idea allora si guarda ti chiedo di darmi proprio 5 minuti si un'esperienza personale è una cosa che non sentirai da nessun altro abbiamo uno scoop abbiamo no no davvero è molto seria la cosa allora innanzitutto la flacca viene dalla Cina è una droga che viene dalla Cina e il fentanyl è un'altra droga che fa diventare zombie le persone quindi il potere sa che sostanza utilizzare e che aree del cervello colpire per farti diventare zombie perché gestiscono anche le droghe come è successo negli anni 70 col progetto Blue Moon che hanno diffuso penso l'eroina per distruggere un po' la gioventù è tutto pianificato adesso cosa mi è successo ti spiego bene ho fatto un sogno qualche mese fa c'era ho visto una strada contornata da una fila di case sulla destra e un'altra fila di case sulla sinistra mi sono ritrovato nelle all'interno delle case di destra e c'erano degli zombie che camminavano dondolando come gli zombie e ho percepito che erano pronti ad attaccare ad uscire per attaccare allora prima coincidenza il giorno dopo guardo in un gruppo su Whatsapp e ho visto una locandina che avevano postato una locandina comica con scritto la prossima cosa che arriverà di queste qua che ci ha colpito in questi ultimi anni la prossima vi farà diventare degli zombie era una locandina comica ma va dalla coincidenza allora gli angeli creano le coincidenze quindi ho sentito Silvia Di Bello perché lei vede gli angeli e le ho raccontato cosa mi è successo allora Silvia a un bambino di 4 anni che guarda i cartoni e mi dice caspita Alberto proprio ieri ho guardato il cartone di mio figlio e si vede si vedevano dei personaggini che venivano colpiti da una cosa tipo questa qua che ci ha colpito negli ultimi anni e diventavano tutti degli zombie caspita allora comincia a venirmi la pelle d'oca ma non è finita qui il giorno dopo il giorno dopo ho guardato su whatsapp un messaggio vocale che mi ha mandato un mio amico di Roma e incredibile perché era un vocale di due giorni prima ma io vabbè non li guardo subito comunque ho ascoltato questo mio amico parlava di un suo sogno che ha fatto e ha sognato gli zombie che attaccavano le persone in mezzo alle strade e il sogno l'ha fatto la notte stessa in cui li ho sognati io gli zombie allora ho detto caspita qui se gli amici superiori mi danno tutte queste coincidenze vuol dire che il potere sta preparando veramente un attacco zombie e adesso quindi ho ricercato i messaggi visto che sto mettendo tutto in un ordine maniacale e la madonna senti di cosa parla Luz de Maria 2015 la tipo quella cosa qui che ci ha colpito negli ultimi anni si manifesterà in diversi modi in futuro non solo attaccando l'organismo ma anche la mente dell'uomo per tenerlo privo di autocontrollo Trevignano Romano 2021 il principe del male non si ferma ma avanza con grande forza guardate cosa sta facendo purtroppo è entrato nelle menti delle persone affinché solo i potenti possano manovrarle un giorno l'uomo impazzirà al punto che ogni simile mangerà mangerà il suo simile carbonia 2012 Sardegna io vi metterò il sicuro mentre nel mondo calerà la tenebra e i figli lontani da Dio si sbraneranno tra di loro i miei figli saranno da me protetti ok quindi ci saranno momenti dove le persone impazziranno si sbraneranno tra di loro però la Madonna e poi la Madonna ha anche parlato in un messaggio che arriverà una cosa di quelle lì che ci ha colpito negli ultimi anni che farà perdere il controllo alle persone quindi la Madonna non parla di zombie nello specifico ma descrive dei comportamenti che hanno gli zombie quindi io a cosa la Seuci è una futura pandemia o il fatto che le persone mi hanno fatto tanto qui possiamo dire quello che vogliamo e questo venga riattivato e li fa diventare pazzi hai fatto una quale associazione si arrivo volevo proprio dirti questo comunque ci arrivo è perché faccio due collegamenti anche con le notifiche e un tuo TG che hai fatto allora io comunque ho cominciato allora a guardare degli articoli no e parlano del surriscaldamento climatico dell'ossolimento dei ghiacciai al polo nord dove ci sono dentro quelle cosine lì tipo quella che ci ha colpito negli ultimi anni e hanno detto quando si sorgono i ghiacciai quelle cosine lì ritornano ad essere attive e le hanno chiamate non le cose 19 ma le cosettine zombie perché le hanno chiamate così perché dopo millenni che sono nei ghiacci nei ghiacciai ritornano ad essere attive ritornano a colpire l'essere umano come fanno gli zombie che dopo tanto tempo risolvono dei morti e ricominciano a colpire tutte notifiche allora Michael Jackson ti faccio questo esempio ha lanciato tante notifiche no tipo nell'album Blood on the dance floor che dal 97 mette sangue sulla pista sulla pista da ballo si vede un pavimento a scacchiera che sarebbe il simbolo della massoneria si vede Michael Jackson col braccio puntato a destra con la fascia di lutto nera e dietro il suo braccio ci sono le torri gemelle le torri gemelle rappresentano anche le colonne della massoneria rappresentano anche le colonne della massoneria e le torri gemelle dietro hanno un grande fumo un grande polverone come si è visto quando sono crollate le torri gemelle erano posizionate sulla pista da ballo e le persone quando sono crollate le persone dentro sono morte e hanno versato quindi sangue sulla pista da ballo e l'album come si è intitolato Blood on the dance floor sangue sulla pista da ballo quindi ti ho fatto questo esempio per far capire che ha lanciato delle notifiche precisissime nel video musicale thriller si vedono gli zombie che attaccano le persone ma gli zombie che ballano quindi dipendono dalla musica e la musica che cos'è sono onde sonore sono frequente sono vibrazioni fammi indovinare 5G esatto tu nel TG me lo sono segnato del 27 settembre 2023 che consiglio a tutti di vedere hai fatto vedere quell'americano che parla di quelle cose lì che hanno messo in cielo che vengono attivate quindi emanano delle frequenze emanano delle onde delle vibrazioni e attivano gli zombie c'è un collegamento perfetto che possiamo fare quindi con la notifica di Michael Jackson e poi ho visto altri articoli che parlano degli zombie quindi le coincidenze sono troppe siamo complottisti mettiamola così coloro che hanno fatto magari poi magari glielo attivano con magari una frequenza lo so è puro complotto però potrebbe essere no no non è puro complotto ho visto degli elementi che adesso devo stare attento che entrano abbiamo una barriera ematoencefalica sul nostro cervello ci sono delle delle cosettine talmente piccole che possono oltrepassarla entrare nelle cellule del cervello poi quella sostanza lì famosissima che non voglio nominare è una sostanza rice trasmittente è un'antenna che riceve informazioni da quelle cose lì che hanno messo in cielo è rice trasmittente riesce a registrare le informazioni del nostro cervello anche e può anche trasmetterle a un sistema computerizzato incredibile quindi antenne quindi tutto questo si collega con questi messaggi e poi ripeto guarda che le concordanze che mi sono arrivati sugli zombie sono troppe troppe questi qua stanno preparando un attacco zombie ma la domanda che si starà facendo adesso il nostro telespettatore è la seguente lo so che nessuno ha le date certe anche perché le visioni mariani sono state fatte 10 anni prima 15 anni prima ma secondo te manca molto prima che cominci il vero caos considerate che siamo nel 2024 perché la domanda che mi fanno tutti io dico sempre guarda la loro agenda 2030 secondo me accadrà in questi anni però non ho date cioè io non le ho allora sì dovrei accennarti il discorso del progetto Bluebeam non so c'è tempo grazie caro amico allora il progetto Bluebeam è l'ultimo piano dell'anticristo ci stanno tenendo nella totale ignoranza perché si trattano come delle bestioline questo lo sai bene anche tu negli anni 30 si era impattata un'astronave sul territorio della Lombardia e questa astronave è andata sotto le mani dei nazisti quindi è da minimo cent'anni che ci nascondono questa realtà extraterrestre infatti il primo crash è stato ce l'aveva Mussolini questa roba qua negli anni 30 non è il 47 ce l'aveva Mussolini in pochi sanno questa cosa qua sì l'ufologia è nata ufficialmente nel 47 ma già prima ma anche prima degli anni 30 ho lesso un documento cioè proprio io ho lesso il rapporto di Benito Mussolini e c'è in quel tempo là sì sì esattamente quindi ci hanno le persone che hanno parlato di questa grande realtà sono sempre state derise e tutto ma negli ultimi anni cosa sta succedendo che così tutto ad un tratto in questi anni particolari il pentagono tramite per esempio il New York Times ha parlato di uno studio che stanno facendo sugli alieni l'hanno chiamato la minaccia aliena abbiamo sentito poi anche Biden Obama che hanno fatto capire che gli extraterrestri ci sono abbiamo visto la nostra mentina che ha detto adesso ne parlano i militari non uno qualsiasi degli extraterrestri quindi ha fatto capire che è un argomento da considerare anche il presidente della commissione europea non so se l'hai visto ha detto i capi di altri pianeti sono preoccupati per noi continuano a parlare degli extraterrestri e anche David Gruss dell'intelligence ha detto gli extraterrestri ci sono ma il governo americano sta nascondendo ma è tutto a loro piano ovviamente e ci sono dei miei amici che hanno visto dei segni particolari per esempio un amico di Vicenza mi ha mandato un video che ha fatto lui fuori da una chiesa dove in alto in cielo si vedono delle luci che girano e si muovono nel cielo formando una specie di otto e una mia amica di Milano ha proprio fotografato una nuvola con dentro delle luci ma si capisce che erano degli ologrammi e io qualche anno fa avevo visto qui a Cremona una spirale in cielo io so perché si vedono queste cose il progetto Bluebeam lo stanno facendo allora tu l'hai detto prima Gesù torna con le nuvole astronavi Satana imita Dio quindi adesso l'anticristo in prossimità della sua manifestazione ci farà vedere delle astronavi ovviamente e Bob Lazar che ha lavorato nei servizi segreti lo sai meglio di me ha detto ha dichiarato che loro hanno ha lavorato nelle basi segrete con la retroingegneria stanno facendo queste ci sono nell'area 51 e ha visto un test di un'astronave che andava in alto e poi dopo ha atterrato ecco poi ho fatto vedere nei miei video delle colonne di luce che si sono manifestate in Russia in Cina in Argentina in America e perché Satana è imitatore di Dio Gesù quando torna ci sarà il rapimento degli eletti il simbolo l'immagine che rappresenta il rapimento degli eletti sono questi astronavi con queste colonne di luce e adesso stiamo vedendo queste colonne di luce abbiamo tutti gli elementi per dire che lo stanno facendo e in Turchia hanno anche visto un oggetto volante che ha emanato un laser che ha colpito il terreno e in Ucraina c'è anche l'articolo questo è discutibile hanno visto un oggetto volante che ha emanato dei fulmini che hanno distrutto dalle camionette russe e queste camionette russe erano distrutte esattamente come erano distrutte le macchine nell'incendio di Maui il famoso incendio dove c'erano i raggi laser che hanno filmato anche questi raggi laser quindi nel progetto Bluebeam vedremo delle astronavi che emaneranno fulmini raggi laser e tutto ed è tutta tecnologia di Tesla che hanno brevettato nelle basi segrete adesso quando ti rispondo ma prendete con le pinze l'hai detto anche te le date non ce la nessuno e neanch'io però vi dico i segni che mi sono arrivati cioè Silvia Di Bello ha avuto tante visioni e in queste visioni aveva visto un'astronave a Roma con dei militari penso forse americani che sparavano verso questa astronave cioè il progetto Bluebeam e lei mi ha detto anni fa sarà 2025 e io le ho detto ma guarda che i tempi del cielo sono diversi dai nostri magari sarà da interpretare vediamo lei mi ha detto io ti dico che sarà il 2025 ok vediamo come interpretare però mi sono capitate delle altre concordanze delle altre coincidenze per esempio ho visto il video di Salvatore Brizzi che parla di due epoche che si sono intersecate tra il 1975 e il 2025 e ha detto dal 2025 in poi quindi probabilmente arriveranno delle legnate sonore a questa umanità poi qualcosa lì di cui si parla tanto ultimamente l'hanno chiamato non il coso 19 ma il coso 25 e nei miei appunti ho visto il titolo di un documento NASA che diceva 2025 strategie di guerra i piani per strategie di guerra e la NASA ricordiamoci che aveva un documento che parlava proprio del progetto Bluebeam e della manifestazione dell'anticristo quindi 2025 poi l'agenda sappiamo tutti è 2030 lo sai benissimo se andate a vedere Carl Nell è un ex militare americano e ha detto entro il 2030 devono essere desecretati i documenti sugli extraterrestri entro il 2030 questa realtà deve dobbiamo farla conoscere all'umanità intera quindi guardando tenendo in considerazione tutti questi segnali probabilmente dal 2025 al 2030 si scatena l'inferno sulla terra però prendete con le pinze ma a mio parere saranno 5 anni le date sono molto simili alle mie anche 2024 l'inizio del caos inizio guerra 2025 guerra conclamata però anch'io più o meno ho quella fascia temporale basandomi anche sul fatto che loro hanno detto pubblicamente agenda 2030 ma secondo me prima lo usano un po' come una come il giochetto dei tre baratti una tappa diciamo sì no per distrarti ma tanto è 2030 quindi ho tempo capito però faranno tutto molto prima sono diabolici loro fanno tutto specchiato ma deve essere diabolico devono confonderti ovviamente prima di salutarci Alberto che consiglio cosa possiamo fare cioè gli esseri umani che sono distanti a Dio io lo vedo dal mio TG dico guardate ragazzi c'è Dio Dio ci illumina io per esempio non vado in chiesa non credo in chiesa ma credo in Dio ciecamente in Dio che mi ha sempre illuminato allora in base alle tue ricerche ai tuoi studi a quello che tu hai capito nella tua vita che consiglio ti senti dare alle persone che per la prima volta magari guardano questa intervista guardano questi due folli che ti parlano di nuvole celestiali che arriva di Dio sembra pura fantascienza per alcune persone però che consiglio fraterno ti senti dare a queste persone allora io per certe persone te l'ho detto prima non c'è niente da fare lo do questo consiglio alle persone che stanno entrando in questi argomenti queste persone ogni tanto fanno dei discorsi che non vanno bene cioè quindi entrate nel mondo dell'ordine e uscite dal mondo del caos perché se voi mi dite speriamo che la guerra non arrivi speriamo che l'ha annunciato la Madonna speriamo che non arrivi la pandemia a zombie speriamo che il regime non ci dia delle bastonate cosa vi dico oppure come hai detto prima speriamo che Putin ci salvi dall'ordine mondiale o le persone stanno capendo adesso il regime sta perdendo ecco io vi capisco io so benissimo perché dite queste cose perché ascoltate dei giornalisti che io ammiro tantissimo e hanno detto tante verità bravissime persone però non voglio perdere nessuno arrivano fino a un certo punto e poi improvvisano dei loro discorsi voi cari amici li ascoltate ma fate anche bene ad ascoltarli e vi fate affascinare dalla loro professionalità e che sono molto più bravi di me queste persone qui e vi fate magari affascinare anche dal loro carisma e meccanicamente ripetete quello che dicono loro e cascate nel caos cascate nella confusione perché la Madonna non ha detto sperate e va tutto bene la Madonna ha detto altre cose e adesso ti te ne ho proprio portati i messaggi su questo argomento un attimo che ci sono ecco qua i messaggi cosa dobbiamo fare Valeria Coppone apparizioni Roma 2021 figlioli miei voi conoscete ogni cosa mondana studiate per tanti anni tutto ciò che vi circonda la luce il buio ciò che è buono e meno buono credete di conoscere tutto ciò che vi circonda e non rispettate più le leggi di Dio le leggi di Dio Catalina Rivas Bolivia apparizioni messaggio 1996 l'uomo ha dimenticato la mia leggi e cammina lungo la strada della sua imminente rovina è l'escoreal quindi ci spostiamo in Spagna 1996 che cristiani siete voi figli miei se non mettete in pratica le mie leggi ve lo ripeto pentitevi e convertitevi poiché i tempi sono gravi e voi uomini non siete ancora giunti a considerare la giustizia di Dio e vi siete fermati alla sola misericordia figli miei userò la mia giustizia per gli ingiusti e la mia misericordia per i giusti fino a quando devo continuare ad avvertire gli uomini quindi cari amici voi potete continuare a dire speriamo che vada tutto bene la Madonna ci ha detto altro mettete in pratica le leggi di Dio quindi possiamo metterci tutti insieme a dire speriamo che le cose migliorino ma non succede perché le vostre speranze non vanno al di sopra delle leggi di Dio ok quindi magari tu sono cose che sai già ci scommetto ma e ti sembra un discorso banale ma dobbiamo metterle in pratica queste leggi di Dio e ti faccio degli esempi per capire allora molto breve abbiamo visto gli aborti l'aborto soltanto l'aborto un bambino andiamo contro le leggi di Dio giusto un bambino nasce perché ha una missione con una motivazione quindi l'aborto in sé è totalmente andare contro le leggi di Dio poi in California adesso hanno proposto di uccidere i bambini che nascono vivi dopo un aborto mal riuscito poi le black room in Germania ne hai parlato te dove al posto degli scambisti ci sono i bambini che prendono confidenza sessuale si toccano la patatina il pistolino a vicenda poi abbiamo visto anche i libri in aumento dove si vedono donne con fuori il pistolo le vignette con la donna con fuori il pistolo e l'uomo con fuori la patata la list trassa adesso in Inghilterra ha detto useremo la bomba atomica in caso di necessità e tutto è da applaudire il nostro melone ha inviato 300 400 mezzi blindati in Ucraina l'Italia è il primo venditore di armi nell'Unione Europea le armi sono morte chi legge di Dio chi di spada ferisce di spada ferirà quindi adesso torna indietro morte sul nostro territorio sul territorio italiano abbiamo depositato 100 testate nucleari americane e se dici la verità se dici la verità sull'11 settembre sull'Iraq sulla Siria sul brodo e quello che è successo negli ultimi anni ti saltano addosso i mariani sai cosa mi è successo quando andavo a dare i fogli sulle profezie mariane in pochissime situazioni mi sono arrivati lì i carabinieri la pattuglia dei carabinieri della polizia a chiedermi i documenti e mi hanno detto adesso non dai più i fogli sai perché sono arrivati lì perché i mariani hanno chiamato i carabinieri i mariani i mariani quindi dopo naturalmente io sono andato avanti a dare i fogli perché non mi potevano dire di fermarmi perché lo facevo gratuitamente comunque i mariani quindi è un'umanità a 360 gradi che sputa addosso alla verità sputa addosso alle leggi di Dio quindi la legge quindi adesso per forza arrivano catastrofi la giustizia di Dio perché siamo arrivati a un punto di non ritorno la giustizia di Dio prevede che la manifestazione dell'anticristo perché sarà te l'ho detto prima lo strumento di selezione quindi tutte queste catastrofi arrivano le catastrofi arriva il regime arriva la schiavitù a causa del nostro peccato perché non mettiamo in pratica le leggi di Dio ok ne parlavo lunedì nel mio medley che praticamente mi è stato comunicato dall'alto che per passare quando ci sarà questo shift planetario passare con Dio completamente bisognerà abbandonare tutti gli oggetti materiali che non sarà facile io l'ho detto pubblicamente anch'io sono un materialista anch'io ho l'iPhone la macchina e cose varie però la vera illuminazione sarà quella di essere disposti per chi vorrà passare con Dio abbandonare tutto tu come come hai interpretato questo segnale cioè essere pronto a abbandonare tutto quello che hai qua sul pianeta terra per poi passare con Dio si è pronto psicologicamente perché è facile dire sì io credo in Dio lo fa però quel giorno in cui dovrai abbandonare tutto allora ti dico questo non per vantarmi sì sì sono pronto ma abbandoniamo tutto per avere una vita cento volte migliore di questa cioè il paradiso sulla terra sta succedendo arriverà quindi per me è una felicità ti dico che sono pronto ma non sto mentendo non voglio dimostrare di essere spirituale e tutto perché ho rinunciato a tutto cioè in questi anni ho rinunciato a tutto le grigliate con gli amici andare fuori a bere niente donne da dieci anni lo so che mi danno tutti del matto da nove anni e mezzo da quando mi sono convertito niente donne ho dedicato tutto questo sto facendo digiuno al mercoledì venerdì pane e acqua tutto ho rinunciato a tutta la mia vita passata l'ho ribaltata e quindi la materia adesso che ho è l'essenziale che è il pc il microfono la la videocamera ma tutto funzionale alla mia missione cioè io ho il letto ho un tetto sotto qui ripararmi e non ho altro non ho niente non ho niente quindi sì sì sono pronto e non vedo l'ora no anch'io non vedo l'ora il grande cambiamento dico la verità costi qualche costi Alberto mi ha fatto molto piacere intervistarti io rimarrei ora qui a parlare con te come ho detto pubblicamente sono tra i pochissimi che seguo grazie amico e a volte mi chiedo come siamo visti di fronte a Dio perché ovviamente nessuno è perfetto però non vedo l'ora che arrivi quel giorno dove Dio giudicherà i buoni rispetto ai cattivi è il nuovo mondo e non vedo l'ora che arrivi questo nuovo mondo perché purtroppo non si può più vivere in questa società oggi viviamo una società dove se tu inizi a stare in macchina non vengono a salvarli prendono il cellulare e ti fanno un video e quindi per versioni sessuali holy fans youtube che è diventato un vero schifo in questo mondo io non ci voglio vivere quindi mi auguro quanto prima arrivi l'ira divina perché soltanto Dio può correggere ecco il salvatore mi aspetto soltanto uno che sia Dio a farlo in certo non sarà un Putin non sarà un Trump non sarà un corrotto di un po' bravo bravo ti ringrazio per il tuo nobile tempo posso aggiungere una cosa? certo un minuto allora ne parlavo con il nostro amico in comune Alessandro che ha un cuore grande come questa casa qua sì allora Dio è creatore ha creato l'universo le galassie gli universi quindi Dio non guarda a qualche ammaccatura che abbiamo ok quindi se magari ti scappa la parolaccia se bevi invece di un bicchiere di vino ne bevi due Dio è grande guarda ben altro guarda il tuo cuore quindi vedete di entrare nell'azione anche qualcosa di piccolo fate il primo passo non badate i vostri errori passati però attenti ragazzi amici perché qui i tempi sono veramente stretti e non fatevi troppe paranoie se avete avuto un passato così se avete sbagliato magari ogni tanto ci inciampate agite con cuore azione 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 ok tutto qui e complimenti anche a te perché devo dire questo ha avuto un cuore molto sensibile perché ha aperto spazio a queste apparizioni mariane hai ascoltato a differenza di tanti altri quindi questo denota una grande sensibilità da parte tua non lo dico perché sei qui allora no no ma lo sai Alberto è facile è facile vedo una certa freddezza da parte di altre persone nella tua posizione che non considerano questi argomenti quindi hai una gran buona sensibilità hai fatto un passaggio bravo oggi i media sono abituati ti ringrazio sono abituati a mettere un vittorio sgarbi queste persone che sanno parlare bene rispetto a noi però sono il nulla come persone io ho imparato a conoscere col tempo il linguaggio di Dio Dio è semplicità e amore lo riconosci quindi io non ho mai sentito Alberto Caccelanza ragazzi andate lì uccidete no sempre ogni messaggio era a fin di bene per aiutare gli esseri umani mi raccomando proteggetevi attenzione a questo fate scorti cibo il messaggio di Dio è questo è semplicità e amore mentre quando un linguaggio è troppo complicato non appartiene a Dio Dio è elementare quando comunica con noi ed è amore quindi perché ho dato spazio ho dato spazio perché i messaggi vostri sono fatti di pace di amore di illuminazione quindi bisogna essere sensibili e poi bisogna pensare out of the box sul stice inglese pensare fuori dalla scatola se siamo troppo schematici non possiamo capire il mondo è molto di più di quello che vediamo con i nostri occhi certo ti ringrazio e che Dio possa illuminarci il nostro cammino perché ne abbiamo bisogno soprattutto nei futuri mesi che possa creare la cupola che ci protegge da questi satanisti perché nelle mie preghiere c'è sempre questo tieni lontano le anime cattive e come dico sempre in Miettigi fate attenzione alle pecco cioè ai lupi vestiti a pecora che sono quelli più pericolosi non è più pericoloso quello che ha il tatuaggio quello è a volte comunica con la violenza così perché gli è mancato la morte ma i più pericolosi sono quelli che si presentano tutti tranquilli che poi sono ripeto ti possono accoltellare le spalle io purtroppo ne ho conosciuto tanti e te l'ho detto anche a te fai attenzione perché a volte entrano dentro queste organizzazioni come le nostre per poi accoltellarci le spalle fate attenzione ai lupi vestiti da pecora questo messaggio che mi sento di dire grande Morris ok un abbraccio carissimo che Dio sia sempre con noi che possa illuminarci alla prossima intervista è una promessa ok alla prossima amici grazie ciao 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 ciao